buongiorno a tutti oggi vi riporto una ricetta facilissima da fare abbiamo parlato dell'importanza dello scrub per il corpo volevo proporvi una ricetta di scrub non liquido ma solido in saponetta per due motivi il primo è quello di praticità uno scrub solido è molto più comodo da utilizzare e il secondo motivo è quello del riciclo infatti la ricetta che vi propongo utilizzando le saponette oppure i residui di saponette che potete già avere in casa e in questo modo non avete bisogno di andare a recuperare nessun tipo di ingrediente particolare però avrete il vostro scrub corpo da utilizzare in un formato piacevole e divertente anche da da creare spero che vi divertiate come mi sono divertita io a creare il mio che poi vi farò vedere grazie buona visione grazie a tutti ecco vi faccio vedere come promesso la mia saponetta scrub io ho utilizzato dei saponetti pezzettini di sapone all'arancia che già avevo ho deciso di mantenere il tema aggiungendoci la scorza d'arancia e di limone ho utilizzato il metodo del microonde perché l'ho trovato più comodo magari se utilizzate un altro metodo per sciogliere la saponetta fatemi sapere trovo che il microonde sia molto più rapido ci ho messo 5 minuti a dire tanto e questo è il risultato se volete provare anche voi e volete mandarmi le foto delle vostre saponette scrub mi farebbe piacere spero che questa ricetta sia utile e vi mando un abbraccio virtuale e vi mando un abbraccio virtuale